Ciao, sono Giorgia e benvenuti dentro Chef. Chef è una vertical farm idroponica completamente computerizzata e molto più pulita di una sala operatoria per consentire di coltivare insalate e microverdure a chilometri zero in tempi rapidissimi, ma soprattutto in modo sano e pulito. Per il Maker Faire abbiamo seminato un mix di microverdure che facciamo degustare i nostri aspiti per dimostrare come una verdura piccola come questa possa avere lo stesso sapore della verdura adulta. Sono in realtà dei superfood che, se abbinati nella nostra alimentazione, possono consentirci un pieno di vitamine mangiando semplicemente 50 grammi di insalata. Con questo modo speriamo di dimostrare di poter portare la coltivazione in tutti i posti del mondo, dai posti freddi all'Africa piuttosto che nelle grandi città.